Salve a tutti Pumpkins e benvenuti in questo nuovo video! Sono emozionata, agitata, eccitata perché come avete potuto leggere dal titolo questo non è un semplice video ma è un giveaway che nasce tramite una collaborazione bellissima con due booktuber che già conoscete, che amo sono due mie amiche carissime, stiamo parlando di Giada, di Reading and Save e di Gabriella, di Fangirl in Love with Books e anche con la Pampling sapete che già da un po' che sto collaborando con il sito della Pampling e quindi sono stata felicissima quando la Pampling ci ha contattate tutte e tre per creare questo giveaway dedicato esclusivamente a voi ma di che cosa sto parlando, che cosa si vince tramite questo giveaway, cosa bisogna fare per partecipare? Allora in palio c'è un buono da 50 euro spendibile sul sito della Pampling il giveaway inizia oggi che è 16 dicembre e finirà il 21 dicembre il 22 poi ci sarà l'estrazione, randomica ovviamente, tramite live su Instagram ma che cosa bisogna fare per partecipare a questo giveaway? le regole sono veramente semplicissime la prima regola è quella di seguire tutti i canali ossia il mio, quello di Gabriella, quello di Giada e quello della Pampling ovviamente tutti i link li troverete giù nell'info box così come tutte queste cose che vi sto dicendo quindi se perdete dei pezzi tranquilli che è scritto tutto qui sotto la seconda regola è quello di seguire tutti noi su Instagram quindi di seguire appunto me, Gabriella, Giada e l'account Pampling su Instagram la terza ed ultima regola è quello di commentare sotto ogni video perché ovviamente ci saranno anche i video di Fangirl in Love with Books e di Reading Can Save Us commentando, dicendoci che partecipate e lasciandoci magari il vostro account Instagram perché per noi è più facile contattarvi in caso di vincita ma soprattutto quello che vi chiediamo è di rispondere a due domande veramente semplicissime la prima è qual è la vostra maglietta preferita di Pampling che è dedicata ai libri alla lettura e la seconda domanda che è bellissima quindi sbizzarritevi ossia su quale libro vorreste che la Pampling creasse una maglietta e la mia risposta in questo caso sarebbe la saga di Magic, A Darker Shade of Magic di Victoria Schwab perché secondo me avere una maglietta su questo mondo sarebbe veramente una figata e credo che la Pampling riuscirebbe a creare qualcosa di bellissimo quindi la mia risposta è questa qui, sono curiosa di leggere le vostre risposte per concludere vi ricordo il mio codice sconto che è feri15 e se viene utilizzato avrete il 15% di sconto sull'acquisto inoltre per ora sul sito Pampling le spedizioni costano solo un euro io direi che siamo arrivati al termine di questo video io spero tanto che questa collaborazione vi piaccia perché a me piace da impazzire, è bellissima e spero che partecipiate in tanti trovo che sia anche un modo per ringraziarvi e per augurarvi Buon Natale ricordate di commentare tutti e tre i video nell'info box potete trovare tutte le regole, tutto quello che vi ho detto e niente io la smetto di blaterare che lo sapete divento logorroica e noi ci vediamo ad un prossimo video in bocca al lupo Ciao Pumpkins!